Proseguono intensamente i controlli e la Guardia di Finanza volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e questa volta hanno portato al sequestro di 15 flaconi di prodotto igienizzante per mani, recanti, etichette e condiciture ingannevoli, circa la provenienza del prodotto presso un mini-market nel comune di Trabbia. Una volta individuato lo stock di prodotti non a norma, i finanzieri del gruppo di Termini Merese hanno approfondito le ricerche per scovare la filiera commerciale attraverso le fatture di acquisto, individuando un'impresa di commercio all'ingrosso di prodotti per la persona e per la casa, con sede in Ficarazzi, nella quale venivano stoccati per la successiva distribuzione al dettaglio numerosi prodotti di saponi igienizzanti. Un'operazione che ha portato al sequestro amministrativo di circa 19.000 flaconi di gel igienizzante venduti senza alcuna etichetta. Si trattava di prodotti tutti potenzialmente pericolosi in quanto non presentavano alcune indicazioni del produttore, dell'origine, data di scadenze e precauzioni d'uso, in spregio alle normative comunitarie e alla disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, mentre il titolare dell'azienda distributrice rischia una sanzione amministrativa fino a 30.000 euro.